E salve, sono Giada Fratantonio, sono una psicologa e neuropsicologa forense. Al corso internazionale di psicologia criminale ho parlato della figura del simulatore, precisamente di chi si tratta e come si può fare per smascherarlo, quindi quali sono le tecniche per scoprire che una persona sta simulando una patologia mentale. Ho deciso di parlare di questo argomento perché in realtà nell'ambito della psicologia giuridica, nello specifico della psicologia forense, capita molte volte di imbattersi in una persona che tenta di simulare o di dissimulare una patologia mentale. Di conseguenza è un tema molto sentito nell'ambito della psicologia forense e dal rimando che abbiamo avuto dal pubblico abbiamo avuto appunto anche la conferma che era un argomento molto utile da trattare. Speriamo che quindi il corso sia stato di gradimento del pubblico, questo è quello che ci è parso e arrivederci alla prossima edizione. Grazie a tutti.